Sarebbe 2.000 euro, stavolta l'incasso solo della nottata del venerdì perché poi ero fuori e non ho potuto prelevarli, venivo sabato mattina a aprire, ho fatto prima loro. Ladri pescatori in azione in tre distributori di benzina di Arezzo. I colpi sono stati messi a segno nella notte tra venerdì e sabato attorno alle 3. Sabato mattina, come al solito, sono arrivato qua e avevano sfondato l'accettatore come è successo di luglio. Stesso modo operandi di luglio. Ho visto dalle telecamere, quindi è la stessa cosa. Non so se sono gli stessi, sono tutti cappucciati. I malviventi sono andati a pesca di banconotte tra gli impianti di benzina e di via Tarlati, di via Buonconte da Montefeltro ed infine nella zona della Catona, tutti a pochi passi dal centro storico Aretino. Hanno prima scassato le colonnine degli accettatori, sembrerebbe con un piede di porco, poi hanno pescato le banconotte direttamente dal self service. Dalle telecamere non si vede l'oggetto che usano per poi prelevare il denaro e neanche per scassare. Immagino sì, un piede di porco, una leva di ferro, insomma una cosa di certo. Siamo comunque amareggiati e niente, bisognerà, come sempre togliamo i soldi prima possibile, però non si può stare con questo stato d'animo così. I ladri hanno prelevato in uno dei distributori ben 2000 euro, ancora da quantificare invece il furto in un altro distributore, sono infine scappati a mani vuote dall'ultimo impianto. Danni invece alle colonne in tutti e tre i distributori, su di uno oggi ancora un cartello con su scritto chiuso per furto.